Come celebro il Natale sul canale e perdonatemi la rima che è un po' come Elf on the Shelf Natale sul canale con quello che è uno dei due barra tre più grandi film di Natale di tutti i tempi ovvero Fanny e Alexander di Ingmar Bergman Sono Emanuele Rauco, benvenuti sul nuovo video del mio canale YouTube se è la prima volta che vedete un mio video e siete capitati qui per caso provate a iscrivervi, andate a scrollare tutti i video che trovate sul canale magari ci sono delle cose che vi piacciono, che vi incuriosiscono e quindi potreste aver trovato un nuovo canale da seguire mentre se invece siete già miei appassionati, tra virgolette, miei follower mettete mi piace e ovviamente provate a supportare il mio lavoro ci sono tanti modi, uno su tutti è offrirmi un caffè su BuyMeACoffee e ringrazio Carlo che si è abbonato attraverso BuyMeACoffee e questo gli darà delle opportunità, poi ti scrivo in privato e mi dirai intanto se ci sono dei video, delle cose che vorresti che io facessi e poi parleremo anche delle nuove cose e vorrei fare, se riesco, il 31, l'ultimo dell'anno una live con tutti gli abbonati e supporter chiudiamo Fanny Alexander, io dico Fanny, mi viene da dirlo alla francese Fanny e Alexander è uno dei più grandi film di Ingmar Bergman ma è soprattutto uno dei più grandi film di Natale il Natale occupa un ruolo centrale ma anche relativo come drammaturgia e come tempistiche nel film si apre e si chiude sostanzialmente con le feste in mezzo c'è la vita, come direbbe qualcuno allora, i grandi film diciamo è uno dei più grandi film di Natale dicevo, in tema 2-3 soprattutto il primo è La vita è meravigliosa anche perché ci ho dedicato un libro La vita è meravigliosa perché lo amo ma detto questo Fanny Alexander è veramente un grandissimo film un capolavoro, assoluto allora intanto è un film molto importante perché diciamo l'ultimo film di Bergman poi in realtà lui ha lavorato poi nel 2000 con un film che si chiama Sarabanda ha continuato a essere produttivo come scrittore, come sceneggiatore per lo schermo grande o piccolo quindi ha fatto altre cose però l'ultima grande produzione, opera vera e propria è questo Fanny e Alexander che è un film televisivo cioè sarebbe una mini serie oggi la chiameremo in 5 puntate che si trova tra l'altro su YouTube quindi poi vi metterò i link i link alla prima puntata e poi da lì vi andate a trovare le altre puntate tra l'altro è un'ottima edizione che è quella della Craterion con sottotitoli anche in italiano e poi lui ne ha fatto una versione ridotta da 3 ore in realtà quella che poi è stata lanciata subito è quella cinematografica da 3 ore che è quella che avevo visto io avevo visto solo quella cinematografica poi per realizzare questo video mi sono andato a cercare e ho trovato questa versione televisiva di 5 ore che è straordinaria cioè che è veramente un altro passo perché è ancora più approfondita approfonditamente la storia di questo mondo ma che mondo è? entriamo nel vivo del video e del film racconta la storia di una famiglia appunto nell'arco di un anno cioè nell'anno sostanzialmente che va da una festa all'altra cioè da una festività natalizia a quella successiva e racconta le storie di questa famiglia una famiglia borghese per bene di teatranti che in questo anno subisce tutta una serie di vicende a partire come dire l'elemento scatenante è la morte del papà dei due protagonisti quindi di Fanny e Alexander soprattutto Alexander è il protagonista perché è la figura in cui Bergman si rispecchia muore il padre che è il capo comico di questa compagnia e da quel momento in poi appunto la vita della famiglia si decompone soprattutto perché la mamma decide di risposarsi con un pastore protestante che si rivela il grande villain del film la cosa meravigliosa di questo film è che c'è un continuo passaggio di elementi drammatico-realistici a elementi fiabeschi o quantomeno di una narrazione che è antinaturalistica quindi la descrizione di una famiglia del cuore delle vicende di una famiglia sentimentale affettive emotive di questa famiglia e il rapporto con poi anche la vita artistica e teatrale è continuamente raccontato va continuamente di pari passo con invece la vita il mondo immaginifico che sembra essere sempre sotto l'angolo dietro l'angolo dietro la parete come se fosse il terreno in cui camminiamo e la forza emotiva immaginifica dei bambini lo libera lo riesce a liberare e quindi diciamo non arriva mai o quasi al fantastico vero e proprio tranne forse appunto verso il finale c'è un personaggio che sembra veramente la porta d'accesso a quel mondo magico cerco di non rivelare troppo della trama proprio perché magari non l'avete visto e potrebbe essere un ottimo motivo per farlo con questa versione completa che è meravigliosa poi vi dico meglio e quindi questa è una cosa che nella narrazione il racconto in generale tanto cinematografico quanto letterario a me affascina moltissimo perché ok il fantastico quindi raccontare una storia che ha a che fare con la magia e con la fiaba ma quando questa storia è sempre al confine sembra voler entrare dentro la realtà a me questa cosa mi rende mi fa impazzire mi riempie di meraviglia mi riempie di emozione e questo film lo fa in maniera straordinaria intanto c'è una prima allora comincia appunto con la descrizione di questa festa tutto il primo episodio che dura un'ora e venti un'ora e mezza è la descrizione di queste feste natalizie nella famiglia Ekdal e dentro c'è veramente sostanzialmente tutto quanto il film in nuce e che poi si evolverà nelle tre ore e mezza successive la versione appunto la versione televisiva sono cinque ore in cinque episodi si trova anche in italiano in quattro episodi ma è una versione pessima cioè vedetevi quella criterion che vi metto sotto quindi dicevo proprio la descrizione dei riti delle tradizioni natalizie minuziosamente che probabilmente sono le stesse descrizioni le stesse tradizioni che ha vissuto Bergman e dentro c'è la vita di questa famiglia gli amori le relazioni anche come dire anche le cose negative che cominciano a covare in questa festa e c'è anche però tutto il mondo magico fantastico l'immaginazione che è un dono di dio come si dice nel film che parte dai bambini e poi si propaga anche agli adulti e infatti il film si apre con un teatro con un teatrino che è il teatrino con cui gioca Alexander e che è lo specchio di quello che fa la famiglia e quell'immaginazione infantile la famiglia la rende continuamente viva proprio perché sono teatranti e sono teatranti nell'animo cioè sono teatranti di una compagnia di filodrammatica diremmo cioè una compagnia amatoriale che però tiene un teatro da tanto tempo da tanti anni che è una tradizione e tiene viva questa forza dell'immaginazione attraverso il teatro e la porta anche nella vita quotidiana quindi il loro avere il modo in cui rendono le loro relazioni vive è quello del teatro è quello delle compagnie teatrali quindi molto vitale molto fuori dalle convenzioni dagli schemi morali e moralistici del mondo che racconta il film che è quello diciamo sostanzialmente di inizio novecento questa immaginazione si a un certo punto entra a contatto con la morte e tutto il film appunto è un po' nel segno della morte sembra quasi il percorso di crescita e di avvicinamento di Bergman e quindi del protagonista Alexander tanto verso la direzione dell'immaginazione come atto creativo dono di Dio atto creativo immaginazione libera da qualunque tipo di freno freno di ogni tipo e dall'altra parte conoscenza e rapporto con la morte e col dolore e queste cose vanno continuamente in parallelo c'è una finezza e allo stesso tempo una ricchezza di sfumature drammatiche narrative veramente da grandissimo romanzo perché è quello che è un grandissimo romanzo cinematografico Fanny Alexander in cui c'è il filone principale della storia che a un certo punto vede il cattivo che di fatto come il cattivo delle favole imprigiona i due bambini e la madre e quindi la battaglia è per liberarsi e questo imprigionare è un imprigionare l'immaginazione è un imprigionare l'arte è un imprigionare la bellezza è un imprigionare la fantasia anche la possibilità che tutto sia possibile e lottano i bambini ma anche la mamma che è una teatrante anche lei lottano contro questa imposizione del realismo imposizione della normalità e soprattutto dei canoni religiosi che sono anche dei canoni morali ed estetici e infatti il film è come se volesse fondere non so il flauto magico e Dreyer il flauto magico non a caso fatto da Bergman e Dreyer cioè di Esire e Ordet quei due mondi lì che collidono e che danno vita a questa grandissima meraviglia quindi in questo percorso di conoscenza e di esperienza della morte e del dolore e della paura c'è anche l'arricchimento dell'esperienza della vita interiore che è una vita immaginativa che è una vita creativa e che è una vita artistica e è un continuo di rincorrersi di temi e di motivi che hanno a che fare con appunto la morte l'angoscia l'ansia e quindi il dramma realista scandinavo diciamo perché poi ci sono riferimenti a Ibsen riferimenti a Strindberg oltre che a tutto ciò che ha fatto nel suo passato Bergman per cui questo è di fatto il fin testamento e dall'altra parte però i motivi che si rincorrono e che rincorrono gli altri sono quelli del teatro come luogo del teatro e delle sue filiazioni o anche dei suoi padri la lanterna magica il teatrino delle marionette i burattini come dire si continuano perché fanno parte si rincorrono questi motivi quindi l'arte la creatività quasi tutti gli episodi cominciano con una rappresentazione teatrale con una messa in scena teatrale o anche con una come dire una sequenza una scena che nella narrazione è realtà non è teatro ma messa in scena raccontata mostrata al pubblico come una messa in scena teatrale e questo rincorrersi fa in modo che i due macro temi si fondano in maniera inestricabile questo è un grandissimo atto d'amore alla creazione all'immaginazione e all'espressione creativa proprio nella sua immaginazione tutto il film poi anche costruito sul tema dell'amleto per lo meno nella percezione di Alexander che filtrando coi suoi occhi rende tutto appunto diverso magico spettacolare e questa cosa è completamente perché è un grandissimo atto d'amore alla vita cioè al teatro all'arte alla creazione ma è anche un grandissimo racconto sulla su quanto quella vita e quell'arte e quella creazione siano in pericolo rispetto al mondo e vadano preservate vadano conservate vadano alimentate di continuo e in questo senso è veramente un film è un'opera mondo chiusa in quattro mura cioè un'opera mondo cioè un'opera che non solo racconta solo una storia e non descrive solo un contesto un ambiente ma partendo da quel contesto e da quell'ambiente ha l'ambizione di raccontare neanche un mondo cioè quello lì ma il mondo perché? perché si apre di continuo dentro la macro narrazione ci sono decine di micro narrazioni che continuano e si alimentano l'una dell'altra ed è proprio l'apertura a questo mondo immaginifico che è anche un mondo immaginifico che noi vediamo costruito con le immagini con la messa in scena per questo dico di grande romanzo cinematografico perché fa con le immagini Bergman quello che i grandi con le immagini e con le parole quello che i grandi scrittori fanno solo con le immagini con le immagini create dalle parole perdonatemi in questo in questa grandissima ricchezza e complessità non perde mai il filo e non perde mai la possibilità di comunicare allo spettatore di dare allo spettatore gli elementi per entrare dentro questa complessità e per viverla a pieno quindi i momenti di magia e i momenti di dolore di emozione non solo si inseguono di continuo ma sono fusi insieme in questo apertura in questa grandissima complessità c'è dentro tutto per questo è un opera mondo perché c'è dentro tutto tutto quello che la vita e anche la vita esteriore e la vita interiore comunicano alle persone ed è molto bello che in questo senso ci sia un grande romanzo che è diventato un film ma che sia pensato per la fruizione televisiva questo proprio anche per arricchire c'è un opera mondo anche dal punto di vista dei medium che la compongono e per cui è pensata media che sarebbe il plurale di medium mi perdonino i latinisti un po' puristi e in questo esserci tutto c'è anche come dire un elemento di grande volgarità c'è c'è lo zio che fa i peti fa le scorreggie fa dei giochi di magia di prestigio diciamo con i peti c'è la la volgarità ma c'è anche la sensualità l'erotismo un film di grande erotismo un erotismo appunto visto e sentito dalla percezione di un ragazzo di un ragazzo in età puberale diciamo preadolescente e in questo senso è anche come grande atto d'amore alla famiglia bergmaniana che non è una famiglia tradizionale che non è una famiglia convenzionale cioè secondo i canoni delle morali con cui bergman ha vissuto e con tutti i limiti che bergman ha avuto come essere umano rispetto a le persone che ha che lo hanno amato e che lui ha amato però questa grande famiglia è la grande famiglia tanto delle persone a cui ha voluto bene che gli vogliono bene parenti amici e tanti guai direbbe qualcuno parenti amici amanti eccetera ma anche la famiglia dei teatranti è un film in cui ci sono tutti o quasi i grandi attori della sua della sua vita della sua storia cinematografica è anche un modo in cui il grande patriarca bergman nel film non c'è un patriarca c'è una matriarca c'è una donna che gestisce o che vorrebbe provare a gestire le sorti della famiglia il grande patriarca e capocomico soprattutto bergman direttore di teatri direttore di compagnie teatrali raccoglie a sé per l'ultimo come dire per l'ultimo saluto che però non è un saluto è un grande atto di rinascita è un nuovo inizio almeno stando alla narrazione al racconto è un film di una ricchezza che è anche difficile credo che siano usciti anche dei libri solo se non ricordo male tipo per Lindau probabilmente se non per Gremese sono usciti dei libri in cui si analizza solo quest'opera perché è un'opera complessissima e però allo stesso tempo per il modo di raccontarla per il modo di costruire i dialoghi e il rapporto con gli attori e anche le immagini per esempio c'è proprio un lavoro di scenografia e di costumi che non solo è ricchissimo esteticamente ma comunica una densità di atmosfera comunica quella porta proprio che dicevo con l'altro mondo che è il mondo dell'immaginazione il mondo della fantasia il mondo dell'impossibile e del fantastico è tutto comunicato attraverso la struttura delle scene delle immagini l'uso dei colori che è un arricchimento un approfondimento di quello che aveva fatto una decina d'anni prima con Sussurri e Grida il rosso il bianco l'asettico e invece i toni calorosi degli interni la sequenza meravigliosa tutta in penombra in quell'antro magico che è il laboratorio dei marionettisti d'origine italiana è un film in cui veramente in ogni sequenza c'è di che raccontarci farci un film stesso e questa è la grandezza di Bergman che è sempre stato anche lui in primis si è sempre raccontato e mostrato come regista di rigore di essenzialità di durezza eppure uno di quelli che aveva dentro una vitalità esplosiva e che a volte era un po' trattenuta era un po' irrigimentata ha preferito entrare dentro le teste degli spettatori ma invece quando fa uscire fuori il cuore e le viscere è un regista strepitoso lo troviamo qui la protagonista di Monica è il desiderio che è uno dei film più carnali e meravigliosi che sono mai stati fatti sul punto sull'eros sul sensuale al cinema e poi ha fatto alcune piccole commedie piccole nel senso produttivamente o anche come tipo di rapporto con il resto della sua filmografia che però sono veramente brillantissime ecco qui dentro c'è veramente tutto di Bergman anche i suoi elementi più sperimentali penso a persona ci sono alcune inquadrature che citano direttamente persona però si fonde tutto in questa straordinaria opera di racconto il racconto non è semplicemente questa è la storia io te la dico il racconto è attraverso le parole e attraverso le immagini e attraverso coloro che quelle parole e quelle immagini le compongono e le attuano tutti i tecnici tutti i capireparto tutti gli attori diventano mondi che si aprono di continuare lo spettatore che non smettono mai di aprirsi anche ad episodio finito anche a fin finito spero di avervi invogliato a rivederlo o a vederlo per la prima volta Fanny Alexander credo che in queste due settimane di festa non possa mancare in una come dire una programmazione natalizia io vi do appuntamento come sempre ai prossimi video se vi è piaciuto questo video mi piace e supportate il mio canale donandomi un caffè abbonandovi oppure comprando i miei libri tra cui appunto io ho scritto un libro sulla vita meravigliosa trovate sotto i link per farlo e noi ci vediamo e ci ascoltiamo appunto video live e podcast prossimamente buon Natale e buon anno ciao ciao